buongiorno a tutte e a tutti prossimo consiglio comunale si informano i cittadini che il prossimo consiglio comunale si terrà martedì 7 novembre ore 20 e 30 presso la sala consigliare l'ordine del giorno è consultabile presso le baccheche sito e sul territorio nonché sul sito istituzionale www.comune.quiliano.sw.it ingombranti ricordo che mercoledì 8 novembre 2023 a quigliano vi sarà raccolta degli ingombranti per cui è necessario portare con sé anche il documento di identità la raccolta verrà dalle ore 8 alle ore 12 presso la piazza della costituzione perché già antistante il palazzetto dello sport per le successive date a quigliano per essere informati sulle date in cui si terrà la raccolta degli ingombranti nelle frazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.comune.quiliano.sw.it oppure il sito sat il servizio è riservato ai residenti della città di quigliano granaccia torna l'appuntamento con la conseta rassegna granaccia e rossi di riguria giunta la sua diciottesima edizione il ricco calendario di eventi avrà inizio venerdì 10 novembre e si concluderà domenica 12 novembre con i banchi d'assaggio dei produttori provenienti da tutta la riguria come da tradizione i produttori affiancati dai sommelier fisar accompagneranno il pubblico nella degustazione dei migliori rossi della riguria e della granaccia di quigliano località madrina della rassegna protagonisti indiscussi della manifestazione saranno i grandi vini rossi doc e i gt della riguria granaccia rossese ormeasco di pornassio colle di luni coline di levanto golfo del tiguglio val porcevore e tanti altri il depian è visibile sui canali social sul sito istituzionale della città di quigliano e sul sito turistico programma in sintesi venerdì 10 novembre ore 17 luca ammirati presenta il suo libro tutti i colori tranne uno presso biblioteca civica piazza costituzione ore 18 apericene presso bar e ristoranti del territorio sabato 11 novembre ore 17 inaugurazione mostra giornalini e fumetti sogni e avventure di carte ore 21 proiezione del film sant'amor a cura del gruppo cinofo cineforum quei bravi ragazzi presso la sala consigliare domenica 12 novembre ore 10 10 30 masterclass sui vini sui rossi di liguria tenuta da giornalista paolo massobio con ruolo di moderatore di jacopo fanciulli ore 15 apertura banchi d'assaggio granaccia e rossi di liguria presso palasport quidiano dalle 15 alle 19 gorlesque street band spettacolo musicale itinerante con partenza centro storico quidiano e arrivo palasport si ringrazia viti riviera per l'organizzazione dell'evento la regione liguria per il patrocinio e lo sponsor conad nord ovest per il sostegno economico e la fattiva collaborazione organizzativa ospitalità della polisportiva quidiano rassegna teatrale la giunta comunale durante la scorsa seduta approvato il progetto presentato del teatrino dell'ebra matta della rassegna teatrale presso il teatro nuovo di valeggia rivolta alla scuola dell'infanzia alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado che si andrà a realizzare nei mesi da gennaio 2024 a maggio 2024 cosa bolle in pentola careva carovana della prevenzione il 9 novembre dalle 9 30 alle 16 30 in piazza costituzione lato palazzetto dello sport visite ed esami diagnostici per la prevenzione dei tumori al seno iniziativa rivolta alle donne non inserite nelle liste degli screening della regione liguria con patrocinio comune di quidiano collaborazione sar con gruppo api e con il supporto di erz per info e prenotazioni www.commen.it carovana della prevenzione quidiano novembre orario ufficianagrafe por proroga temporarie temporanea orario ufficianagrafe al 30 novembre 2023 lo sportello ufficianagrafe seguirà il seguente orario lunedì martedì mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 giovedì apertura solo per rilascio carte entità elettroniche già prenotate per qualsiasi informazioni o prenotazione e contattare l'ufficio dalle ore 10 alle ore 12 e mail ufficio punto demografici chiocciola comune punto quidiano punto sv punti t o email certificata pec comune punto quidiano chiocciola legal mail punto it telefono 0 19 2 mila 5 2 3 100 operativo coc comunale coc in questi giorni di ripetuta alerta idrogeologica emesse dalla regione liguria voglio evidenziare l'importante lavoro del coc e ringraziare tutti i suoi componenti direttamente coinvolti in questo prezioso continuo e delicato lavoro secondo le indicazioni partite dal piano di protezione civile comunale dai funzionari e dipendenti comunali dai volontari della protezione civile di quidiano dei volontari della croce rossa dalla polizia locale e dai carabinieri buon fine settimana a tutti ea tutte